Il maestro Pierluigi D'Amato è una delle nuove composizioni del nuovo album, no? Eh, quasi. De figurino? No, sì, sì, esatto. Panini? Panini, no. Bono che stai giocando là, ma stai a fare quelle grandi, ma lui è un concetto che lo venivo da scuola. Questo brano qui è un brano che ho composto perché doveva essere inaugurato, diciamo così, il liceo musicale poco prima del Covid e invece il Covid ha interrotto e quindi non l'ho potuto presentare. L'ho composto per quell'occasione ed è praticamente l'utopia, l'utopia del cuore sta appunto nel cercare di insegnare le cose belle, cioè l'arte, le arti, ai nostri ragazzi che sono il nostro futuro. Quindi ce provo, ho scritto una cosa per quel sentimento lì. Buono scuola. Buono scuola. Buono scuola. Buono scuola. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti